Il guardia Vomano va sopra di due e si lascia recuperare da un piano della lente ancora imbattuto. A Ruggeri di Villa Vomano termina in parità la sfida tutta teramana, con i locali che trovano il vantaggio già nel primo tempo. L'estremo difensore Spinelli pesca rapidamente Gardini sulla linea di centrocampo, che senza pensarci troppo cerca e trova un gol da Cineteca, approfittando dell'uscita dei pali del portiere ospite. Il guardia Vomano alle occasioni migliori e inizio riprese il punto esclamativo lo firma ancora una volta il numero 9 dal dischetto. Il sinistro del bomber Terramano è vincente e la gara sembrerebbe chiusa. Il condizionale è d'obbligo perché il piano della lente non ci sta a perdere e lo dimostra per l'ennesima volta. La squadra di Aureli soffre molto nella ripresa e, complice di errori di finalizzazione degli avversari che impediscono il 3-0, riesce ad accorciare le distanze sfruttando un calcio d'angolo. La traversa respinge e Subotic ci ringrazia. E' la giornata dei numeri 9. L'autore del 2-1, infatti, serve l'assist per il pareggio firmato dal subentrato Destico per il 2-2 finale. Musica 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 Musica